La Fortis gioca il Montemignaio vince. Una partita che è stata piacevole, nonostante un primo tempo abbastanza varo di emozione, con i portieri raramente impegnati. Un errore difensivo nella ripresa fa sbloccare la partita spegnendo l'ardore della Fortis. Michelacci si trova davanti al sorpreso Claudi e porta in vantaggio i suoi. La Fortis si riversa in avanti per cercare il pareggio, ma al novantesimo Coppi, lasciato solo da tre difensori, chiude l'incontro in contropiede. La rabbiosa reazione della Fortis porta al gol della bandiera Brunacci, che in mischia trova la rete dell'1-2. Mirko, analisi di questa partita? Abbiamo raccolto zero rispetto a quanto prodotto. Complimenti al Montemignaio. Noi siamo in un percorso di crescita. Oggi purtroppo il risultato non è arrivato. Il secondo gol avevamo cambiato, siamo passati a tre, quindi eravamo molto sbilanciati, stanchi. Potevamo evitarlo come potevamo evitare il primo, perché purtroppo vengono da situazioni singole, come sempre. Peccato aver segnato troppo tardi. Potevamo sbloccare la partita nel primo tempo con Leonardo Rossi su quel calcio nel primo tempo. Loro l'hanno fatto, noi no. complimenti a loro. Comunque a gioco la squadra c'è, quindi praticamente i risultati dovrebbero arrivare. La squadra gioca perché si impegna, crea, lotta. Noi dobbiamo soltanto riuscire, non so, prima possibile spero, di evitare di fare questi piccoli errori che tutte le domeniche ci penalizzano. Poi una volta puoi recuperare, una volta puoi vincere, però dobbiamo smettere. Noi dobbiamo partire dal presupposto, dobbiamo smettere di prendere golle, ma non lo prendiamo per un movimento fatto male. Lo prendiamo proprio per non buttare via una palla che in quel momento può essere rognosa e ci castigano sempre. Quindi i ragazzi si stanno impegnando al massimo. Se riusciamo a limitare quel discorso lì possiamo sicuramente vincere più partite. In questo momento non riusciamo a ottenere quello che meritiamo.